In nove anni il Comune di Prato ha speso 2 milioni e 700 mila euro per incarichi esterni del settore urbanistica e in parte anche per lavori pubblici sono oltre 100 e per l'85% riguardano esclusivamente progetti urbanistici. Numeri portati all'attenzione pubblica dal capogruppo di Fratelli d'Italia Claudio Belgiorno attraverso un accesso agli atti. Noi andremo a analizzare nel dettaglio chi sono questi professionisti, le società incaricate, il lavoro che hanno fatto e i risultati di questo lavoro perché sono cifre record, importanti, confronto con le precedenti giunte. Sul nuovo piano strutturale adottato ieri dal Consiglio Comunale Belgiorno sottolinea l'atteggiamento contraddittorio di Italia Viva, alleato del PD. L'assessore Sbolgi che fa parte di quel partito, che prende le distanze sulle posizioni proprio del partito andando a favore, votando a favore anche il piano strutturale. Ci chiediamo ancora se Italia Viva fa parte o meno di questa maggioranza. A sparare sul piano strutturale c'è anche Leonardo Soldi, capogruppo del centrodestra. All'interno ci sono sempre le solite promesse che non sono state mantenute non da uno o due anni ma ormai da quasi dieci, quindi è inutile rilanciare la palla sempre più avanti senza mai metterla in porta. Soldi che sottolinea anche un'altra contraddizione tra principi alla base del piano strutturale e scelte politiche sulle opere da realizzare. L'idea della città dei 5 minuti contrasterebbe con la scelta di realizzare la passerella ciclopedonale sulla Bardena, tra Via Accia e Narnali, anziché quella tra Via Firenze e la zona di Viale Montegrappa, dove è presente una casa della salute. Questa scelta sembra più figlia di logiche di appartenenza politica che non ha una vera visione strategica sul campo urbanistico. Grazie a tutti.